I finanzieri del gruppo Pronto Impiego del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno effettuato sequestri penali e amministrativi di oltre 24.000 prodotti, alcuni dei quali ritenuti presumibilmente contraffatti e altri non sicuri, e di 65.000 accessori e tabacchi da fumo. Nel dettaglio i baschi verdi, durante un controllo di un esercizio commerciale a Palermo, essesso successivamente anche in un magazzino nella disponibilità del titolare, hanno accertato la presenza di oltre 23.000 prodotti, articoli per la casa, mascherine FFP2, elettrodomestici, giocattoli, che sarebbero stati commercializzati in violazione del codice del consumo e della sicurezza dei prodotti, nonché più di 150 altri articoli presumibilmente contraffatti, quali indumenti con personaggi della Disney e della Marvel e oltre 300 cosmetici messi in commercio in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa del settore e senza riportare le informazioni minime necessarie per il consumatore relative all'utilizzo e alla scadenza del prodotto. I militari hanno rinvenuto anche 65.000 accessori e tabacchi da fumo, quali cartine e filtrini, verosivilmente ridetenuti per la vendita senza la prescritta autorizzazione e in evasione della relativa imposta di consumo. Per tanti finanzieri hanno segnalato alla locale procura della Repubblica il titolare dell'esercizio commerciale, un uomo di origine cinese per la presunta violazione degli articoli 474, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e 648, ricettazione del codice penale, nonché gli articoli 3, inerenti alla sicurezza dei prodotti cosmetici. Al contempo i militari hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 9.000 euro e hanno segnalato la presunta infrazione alla Camera di Commercio di Palermo-Enna, territorialmente competente per la definizione del procedimento. Infine, riguardo alla commercializzazione dei prodotti accessori dei tabacchi da fumo senza autorizzazione e in evasione di imposta, sono state elevate sanzioni per oltre 3.000 euro e successivamente è stata inoltrata segnalazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, quale organo competente del procedimento amministrativo nello specifico settore.